presentiamo l'avversario di questa domenica, giochiamo sul campo di Verona, la squadra è in testa alla classifica a due gold, non ha mai perso, è sicuramente una delle squadre più forti di questo campionato e fino adesso la squadra che ha fatto meglio. Allenata da Alessandro Ramagli, un allenatore di grandissimo spessore, è sicuramente la miglior squadra fino adesso con un gruppo di giocatori italiani di grandissima esperienza e due americani molto forti come Umè e Monroe. Sono reddici da una vittoria mercoledì sul campo di Brescia, una vittoria ottenuta in volata, oltretutto senza Monroe che era infortunato e quindi sicuramente per noi è una partita molto difficile. I punti di forza di questa squadra sono la profondità del roster, l'esperienza dei giocatori e le ottime capacità realizzative sia dei due americani che degli italiani come Reati, Bosca-Gin, Ndoia soprattutto. Il playmaker De Nicolaou, un giocatore giovane che sta giocando davvero forte, ha una bellissima media realizzativa e delle ottime statistiche anche negli assist, ne fa ben otto a partita. E' sicuramente una squadra che dovremmo affrontare a viso aperto ma con grandissima energia e con grandissima intensità perché è una squadra assolutamente forte che dobbiamo affrontare giocandola sui nostri ritmi. Sappiamo benissimo delle difficoltà di questa partita ma ci vogliamo provare in tutti i modi provando a ripetere la bellissima prestazione offerta mercoledì in Euro Challenge cercando di trasformare l'esperienza di queste partite anche nel campionato contro una squadra di primissimo livello.